Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 dalle 8 di questa mattina 26 ottobre fino alle 20 del 30 ottobre e segnaliamo la chiusura del tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio nelle due direzioni per attività di ispezione all'interno delle gallerie. In alternativa si può percorrere l'A1 variante. Tra mobilità in FIPRI rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione del capoluogo. Con sguardo al traffico urbano di Firenze segnaliamo incidente su Viale Mammiani possibili disagi. Prima di salutarci per il traffico ferroviario si informa che la biglietteria di Montecatini quest'oggi 26 ottobre sarà chiusa al pubblico. Muoversi in Toscana in FIPRI ha un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! 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 Grazie.